Un progetto europeo per promuovere nuovi percorsi e iniziative che vedono insieme Consiglio regionale, Anci Lombardia e i Comuni Lombardi per intervenire più efficacemente nelle politiche europee. L'obiettivo è quello di intercettare opportunità e risorse in ambito comunitario per favorire la ripresa economica e sociale dei territori regionali colpiti dalla pandemia. Questo è il cuore dell'accordo di collaborazione siglato a Palazzo Pirelli dal presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e dal presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra. Un progetto che nasce da un ordine del giorno del Consiglio regionale, che vede Anci partner di questa iniziativa e che speriamo possa avere un risultato concreto, cioè riuscire a formare il personale amministrativo di tanti comuni lombardi per poter essere il più capace e agevolato possibile andare a cogliere quelle che sono le tante opportunità che l'Europa mette in campo, ma che difficilmente riusciamo a volte, soprattutto i piccoli comuni, riescono a volte a cogliere. Sappiamo tutti che abbiamo davanti una fase nella quale cambieranno molte cose dopo la pandemia e sarà una stagione di grandi investimenti, di disponibilità di risorse importanti, soprattutto da parte dell'Europa. Noi dobbiamo aiutare i piccoli comuni, i comuni medi, la pubblica amministrazione locale ad avere le competenze e la capacità di intercettare questo flusso di risorse per impiegarle al meglio rapidamente per il futuro dei nostri giovani e dei nostri ragazzi.